che ragazzi bentornati su canale di gioco in ex gen siamo su lembo 6 e g con una squadra di amici tutta italiana che vi vado a presentare abbiamo fede dice marco l'odino 90 poi abbiamo super caio 07 e luca dread ok se dovessimo vincere ci avevamo già riscaldati se dovessimo perdere ci stavamo ancora riscaldando quindi non vi preoccupate è normale vediamo intanto dove dove stanno se riesco a trovarli da sopra da sopra gas perché viene evidenzio eccoli qua tutti sopra stanno tutti sopra mi hanno sfondato da sopra raga poi mai credito che facciamo io ma non ci sono ci sono ci sono ci sono tre della dalla dalla si alla destra a destra a destra non lo so mi sa sopra non lo so cazzo raga flashback non vedo più nulla anche il tuo corpo politico il tuo corpo non è felice la terra è notato da qua deve passare lo vedi lo vedi che da qua deve passare con un altro ok, arrivo no, ne ha chillato ho sparato a qualsiasi telecamera esterna riusciate a vedere come sempre vieni qua, vieni qua, che sfondo qua vieni fate spazio fate spazio uh, l'hanno chillato lo sapevo che dalla sotto avrebbero chillato t'ho chillato t'ho chillato caputana eh no, ma l'ho ucciso bravo non è morto però si è morto, non è morto no 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 cacchio eh, ha fatto il giro non l'ho visto proprio quando finiamo lo devo evitare di nuovo ah, eccomi ho preso proprio mentre me ne stavo andando dall'apre nascondere un po' un po' ragazzi mettete le fortificate un po' 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 questo è lo sfondare da qua raga qua è largo come punto entrate, siamo tutti qua sull'obiettivo non ce ne andiamo sparsi se no ci chillano facilmente che qua è larga la mappa eh aspetta che se da qua vedo qualche bel piedino non faccio saltare ecco sta sfondando raga stanno sfondando dove sto io raga cazzo nooo agama killato porca miseria vai grande e bravo ecco eccolo vai spalante lo vedi lo vedi bravo bravo l'ho chillato bravo ecco vai non l'hanno chillato assassins non andare non andare perchè non andare non andare come l'ho detto ok ragazzi fra poco la seconda partita nel quale vinceremo sicuramente raga qua stanno le corazze se volete sa che anche gli attaccanti possono prendere le corazze gli attaccanti? si che gli attaccanti trovano le corazze ma infatti è per questo che dico prendetevele subito prima che c'è ma metti qua la cappola quando vedo non è l'ipostale ecco qui, ecco qui non è vero quando sto io ne faccio ridare le gambe sono riuscito a fare un soldatelo lì, no, l'ha ucciso ehi, l'ha ucciso adesso prendi guardate e poco scudo qui ecco qua va se c'hanno c'ha nessun tipo l'ossido va bene attenzione Rocco che basta uno non è vero non è vero attenzione attento all'altra è sulla sinistra è sulla prossima non so non so non fare cazzate si racconta l'acqua che vuole capo appunto munizioni a pagare abito le munizioni pure appunto alla nuova a poche destra un poche per l'altro anche per il conto o meno mara gasta a prevedere di vero che hanno fatto gli abbiamo fatto il culo grande come la casa è già la casa di obama sono io sono 8 e 8 ma si faccio il nome sono io eccolo non era comunque l'ho piccato la capo c'è un pochissimo di vita 7 comunque stanno la giurata venite qua è possibile non un po' la piccola un po' la piccola non è la piatta marco marco dal marco marco 5 no ma io ti amo no cacchio non vale che è subito è riuscito a sparargli e piuttosto che discutono dai no si si piccolino non vedi di sparargli non poteva direttamente ma che sta facendo ma perchè sta facendo sto trovato non lo trovava ma non lo trovava ma non lo non lo trovava questo caso allo paura qua non fa un rumore si si arriva lì ecco la legge dei peccatori sono sicuramente subì l'altro ragazzi fuori a b sicuro noi qua qua ragazzi qua dove stavamo prima noi ecco ma chi l'altro ragà è là dentro quella stanza a destra ora passerà sì fermati di eccole ecco lo vedi no porca miseria è stato velocissimo ok ok va bene ora dobbiamo cercare di chiudere la raga no ragà manochillato di nuovo maledizione eppure stavo dietro a rocco stavo dietro a poco scudo ma chi lato ugualmente bravo ragà nasconditi tento dai eccola ecco mi piace la sua tua destra diciamo sì dalla data esattamente ecco 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 bravo grande bravo bravo ce ne sono altri da là eccolo ma è un cazzo è arrivato bravo mi raccogliere di fronte c'è di fronte si grandissimi bravo mirko grande 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 vittoria grande vittoria e guardate primo in classifica e vai ok ragazzi se questo video vi è piaciuto come tanto condividete lasciate like ci vediamo al prossimo video qui dal giorno dell'83 della mia squadra italiana fortissima è tutto bella